Conosco Medical Phil da almeno 15 anni. Su loro c'è stato sempre molto feeling perché mi hanno sempre ben consigliata sia sulla scelta del macchinario che nel modo come proporre il macchinario ai miei pazienti. Medical Phil ha sempre aziende di rilievo come Putera, Lutronik e Classis che sono le aziende che preferisco e altra cosa che amo di questa azienda e la loro assistenza. Sono sempre disponibili quando ho un problema il tecnico arriva immediatamente e quando non riescono a risolvere il problema in loco mi sostituiscono la macchina per poter continuare a lavorare. Per esempio il mio ultimo quiz è stato il Pico di Putera che mi ha dato un plus in più nella rimozione di tatuaggi quindi maggior velocità di rimozione e per il paziente si traduce in un numero di sedute inferiori e anche l'effetto sulla pelle è veramente fantastico perché non lascia esiti.